Ovviamente per noi non è ancora il momento della decisione, decideremo cosa fare quando saranno note le prescrizioni sanitarie sul distanziamento sociale. Quando saranno ufficiali potremo fare un piano e valutare se si renda possibile essere presenti con il calendario adesso previsto. Abbiamo la fortuna appunto di iniziare il 15 di luglio, quindi un po' di tempo l'abbiamo per conoscere le determinazioni ufficiali del governo e anche per organizzarsi. Resta molto prudente la Presidente della Fondazione Festival Pucciniano, Maria Laura Simonetti, ma i timori sulla 66esima edizione del Festival Lirico in programma a luglio e agosto al Gran Teatro di Toro del Lago sono davvero molti. Si farà un no il Festival? La decisione sarà presa entro il 20 maggio, quella è la data limite che la Fondazione si è data per confermare o modificare il cartellone già programmato che vede la partenza il 17 luglio con la prima di Tosca, 5 le opere in allestimento per 16 serate complessive più un balletto, la chiusura il 23 agosto. Difficile, se non impossibile, immaginare di mettere in scena un'opera lirica con regole di distanziamento sociale fra gli artisti o fra la stessa orchestra. Il teatro nostro è molto grande, 3.400 posti, quindi abbiamo la possibilità di distanziare il pubblico. Si tratta anche però di capire, l'opera è un allestimento molto complesso, quindi si tratta anche di capire cosa succede nei camerini, nel palcoscenico, insomma in tutto quello che occorre per allestire una delle magnifiche opere che voi conoscete. Tra le ipotesi sul tavolo quella di proporre alcune opere in forma di concerto, semplificando di fatto la gestione degli spettacoli. Il nostro intento è quello di esserci, soprattutto di essere presenti a fianco ai cittadini viareggini e anche per dare un valore aggiunto alla stagione balneare, che non sarà una stagione felicissima, quindi non vogliamo privarla della nostra presenza. In qualche modo, nel modo che si renderà possibile, ma ci terremo ad esserci.